Maria Iacono con le 1.449 voti alle parlamentari dell'EPD sarà candidata? Eh sì, sarò candidata, è stato un ottimo risultato, pensavamo diciamo così di raggiungerlo, ci siamo riusciti e penso che questo è anche un pezzo di conquista del lavoro che hanno fatto le altre donne che si sono presentate quindi parlo anche a nome diciamo di un'esplosione del protagonismo delle donne che ha portato diciamo un'energia nuova all'interno del Partito Democratico. Quali le prospettive per la provincia di Grigento per quanto riguarda il Partito Democratico? Eh io penso che siano ottime le prospettive perché queste primarie ci hanno dimostrato che andare nella direzione di un rinnovamento della politica se si pongono le basi di questo rinnovamento è possibile e ripeto è possibile farlo a partire dalle energie che sono tante in questo nostro territorio che sono le energie umane di cui questo partito dispone e che possibilmente diciamo non hanno ancora del tutto costituito la classe dirigente nuova che proprio il PD in questa provincia può rappresentare.